Siete pronti per affrontare una delle guerre più epiche combattute dall'alba della tecnologia? Certo! Oggi noi saremo iPhone X contro Samsung S8, ancor peggio di McDonald vs Burger King! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Il mio colpo blu ti stenderà! Come al seguito vincerà quello che riuscirà ad aprire più Lucky Block nel tempo limite! Siete pronti a partire immediatamente? Assolutamente! Visto che sono scatole delicate di tecnologia suprema dobbiamo aprirle con le mani! Mani nude! Scartarli uno ad uno! Ma state attenti perché come al solito dentro ci potrebbe essere un iPhone, un telefono molto gustoso oppure la morte più terribile! Scappo! Grazie! Vabbè! Vabbè! Poteva essere molto peggio del re! Eh però ci hai allagato tutto il luogo! E così imparate! Tempo partito Ferri! Mi raccomando inizia a bucherellare! Ma... Ferri! A me sembrano molto più tranquille! Guarda! Ho trovato... E guarda! Anche per ora un'inville! La vuoi Steph? Tieni! Guarda che buone! Oh belle! Io me ne mangio subito una guarda! Così stiamo ancora più tranquilli! Sì 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 sì! Ok! Qua dell'armatura! Ferri ma... Sono super pacifiche! Che succede? Ferri! Sempre a me deve andare male! Di da fare la spada e picchia! Ma porca miseria! Mi stanno lanciando un pale di fuoco! Picchia 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 picchia! Ok! Uno l'ha ucciso! Teoricamente la nostra spada è fortissima! E scusami abbiamo la spada laser! La devo smettere! Ci sto rimanendo malissimo! Te lo dico! Cioè tu mi vieni a dire! Spegni gli incendi! È tranquillo! Non succede nulla! Non succede! No! Ok! Che succede? Ci sono tipo 10 gaste Ferri! Vabbè! Sono fatti loro! Stef! Non nostri! Ce li abbiamo sopra la faccia Ferri! Non sono fatti loro! Sono fatti loro! Non nostri! Ce li abbiamo sopra di noi! Fai finta che non esiste! Oh mamma mia! È troppo! Vabbè! Io continuo a bucare allora! Continua! Continua dai! Peggio di così non può capitare Ferri! Eh! Ferri! Eh! Guarda in alto! Cosa? Il fatto che sto cadendo? No Ferri! Ti prego! Eh! Eh! Aspetta! Devo tornare Stef! Devo tornare! Devi vedere ciò che vedo io in questo momento! Sto cadendo all'infinito io qui sotto! Che succede lì? Abbiamo un pilastro di zombie! Che è successo? Non lo so! Non so da dove sono arrivati! Ma uno degli zombie è venuto da noi ora! No! L'ho trovato io! Che bello! Bene! Voi avete portato gli gas e poi i criminali! E gli gas! Sono tantissimi! Non so cosa sia peggio! Guarda! Uno è sempre il nostro zombie! Ma che succede? Ragazzi io pensavo che questa volta fossero più tranquilli! Anche noi siamo partiti così bene e poi è iniziato a succedere il caos! Brava Ferri che l'hai buttato giù! Bravissima! Ok! 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 Calma! Respiriamo Ferri! Ok! Stiamo andando abbastanza bene! Ma loro hanno detto che stanno andando molto veloci! Quindi sai cosa ti dico? Ok! Non guardare alle conseguenze e inizia a bucare tutto! Vai! TNT! Ti prego! Oh! Sono finito nella loro isola! Sono salvo! Mamma mia! Dicevo buca velocissima! Eh vabbè ma non è possibile! Stanno andando una peggio dell'altra! Ho trovato un sacco di TNT! Hai qualcosa per accenderla? No! Al momento no! Sarebbe ottimo eh! Se la troviamo lo facciamo! Eh sì! Io inizio a posizionarla! Fere! Volevo riprendere l'episodio delle mucche! Che è successo? Guarda! Eh vabbè! E a me invece è uno slime gigante che mi ha buttato di sotto! Eh vabbè! Sempre a me! Ok! Continuo a bucare! Continuo a bucare! TNT! Sono stressanti questi video Steph! Sono molto stressanti per me te lo dico! Noi abbiamo un'armatura che ci fa planare! E ogni volta invece che cadere di sotto riesco a planare e a salvarmi! Una roba bellissima! Fere! Sbaglio o c'è un disastro improponibile? No no! Tutto a posto Steph! Tutto a posto! Allora visto che tutto a posto io continuo a bucare! Vai! Sì! Continua! Io penso ai mob! Vai! Ok! Va bene! Tu pensa a picchiare! Una pila di maiali perché quella delle mucche non bastava! E io sento esplosioni dalla loro parte! Non so che succede! Fere! Dimmi! Fere! Cos'è quel ragno? È un drone gigante Steph! Fere! Puttalo giù! Che bello che è però! Guarda! Tutto il drone! Finchialo che schifo che fa! È una figata! Altro che bello! Ma che schifo! Non sai che non mi piacciono i ragni e i serpenti? A me piace combattere contro mob che valga la pena sconfiggere! Non muore! Non muore! È fortissimo! Non muore sto coso! È fortissimo! Non si deve calmare! Lo spingendo giù! Puttalo! È stato l'unico modo di liberarsene! Assolutamente! Io vi mangio un'altra mela! Vai! Io buco! Ecco qua! Grazie Fere! Ci volevano 10 golem! È proprio l'unica cosa che mancava! Dotto che plano che siccome mi tirano verso l'alto io continuo a planare! Anche io infatti li combatto mezzo in volo! È bellissimo! Io li sto buttando giù così! Ne sto approfittando! Teffa aiuto! È un virus! Un virus! Sì ho notato che è un virus! Ma tira CNT! Non cadere Fere! Che cavolo! Sempre io che cado! Allora! Deve lanciarla nei punti giusti perché si distrugge un po' di Lucky Block! È anche buono! Però sto schivando! Che succede? Che gli sto schivando la CNT perché io flutto in aria! Ok! Stravello! Vabbè comunque! Signor virus! No dobbiamo farlo fuori! Vai! Questa è una frecciatina di Lion comunque Fere! Che cosa? Perché lui sa che l'iPhone è immune ai virus! E quindi ci ha fatto prendere col Samsung! Capito? Il virus! Il virus! Maledetto! Maledetto! Adesso questi blaze voleranno all'infinito! Io li ignoro! Io buco tutto Fere! Perché secondo me! Siamo molto indietro! Vero? Vero! E anche io ho questa impressione! Secondo me siamo davvero tanto 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 indietro! Che succede? Niente! Troppo troppo! No no! È tutto! È tranquillo! Guarda! Di sotto Stef! Ho fatto un party! Con un po' di amici! È tutto tranquillo! Non c'è proprio nessun mob nella nostra isola! No infatti! Ti prego Stef! Non cadere risali! Oh mio Dio! Ma stanno aumentando invece che diminuire! Inizia la gare Fere! Inizia la gare tantissimo! È esplodendo tutto! Fere recuperiamo! Io vado tutto verso il basso! Vado tutto verso il basso Fere! Aspetta! Mi è sponato un pozzo sotto i piedi! Quindi non posso più farlo! A me è una colonna di zombie! Sì! Anche a me! Buongiorno! Più degli Enderman! Cioè c'è di tutto qui! Buongiorno! Avevamo proprio voglia di perdere tempo con voi! Puri Creeper! Puri Creeper! Dove? Qua! Sono morti! Tranquillo! Si sono spaccati mille pezzi! Ho visto! Vedo le loro teste un po' ovunque! Poveri Creeper! Ma Fere ma c'è pure un ghast per caso? Fere ha appena fatto una colonna di golem! Io non ci posso credere! Eh ma io voglio fare! Voglio fare praticamente un bel po' di Lucky Block di fila! Perché ripeto! E vorrei anche io! Ogni volta ci capitano sti mob! Buttali giù! Buttali giù Fere! E ci sto provando! Veloce! Ma guardali che brutti! Andate giù! Picano ovunque! E vabbè! Accesi! E vabbè! Ok! Sai cosa faccio? Io vado verso il basso! Vado verso il basso! Stef aiutami! C'è un bug! Stef! Sì! Io sto morendo! No no! Torna su! Torna su Stef! Torna su! Ok! Eccomi! Non è una buona andare verso il basso! Lo vedi il ghost bug Stef? No! È qui! Perché sono incastrato! Ah sì! Il ghost bug! Lo vedi? Sì! Un bug invisibile! Che sta tirando? È tipo delle tasti! Un telecomando! Ma perché? Vabbè lo butto giù! Lo butto giù! Addio! Ma povero! Vabbè Stef! Che me lo devo ottenere! Che mi tira così in faccia tutto il tempo! Contro Bob's mamma! È la mamma di Bob! Ok! È fortissimo! È venuto Lion a picchiarmi! No! Fere aiutami! No! Vado nell'acqua! Eh! Io son bravo! Eh! Io son bravo caro Lion! Però me lo butto giù! Ma lo butto giù! Aspettete! L'ho ucciso! L'ho ucciso! Signori pigmen! Io non vorrei perdere tempo con voi! Potete andarvene? No vero? Dovete rompermi le scat... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Quanti... Quanti siete! C'è un virus che lancia TNT ad Anna! Ah sì! Noi ci abbiamo già avuto a che fare! Sì! Sì! Davvero! L'abbiamo già visto anche noi! È molto antipatico! Eh! E non muore neanche! Guarda che cioccio! È fortissimo! Ecco cosa succede quando ti entra nel cellulare! Comunque... Prima sei stato davvero antipatico a venirmi ad attaccare eh! Non è vero! Non ti perdonerò mai per quella brutta roba! Sì! Ma io non l'ho fatto apposta! È stata una cosa che mi è successa proprio innocentemente! Sì! Assolutamente! Ti volevo dire giusto un'altra cosa! Sì! Mancano solo due minuti caro! Sì! E qua si esplode tutto! Vabbè! Comunque sì! Ok! Due minuti! Quindi rush finale di due minuti! Sì! Ok! Vai Ferre! Bucatutto! Adesso fregatene se arrivano mostri! Fregatene di tutto! Oh mio Dio! Siamo partiti subito con duemila pecore te lo dico! Sì! Con duemila cose! Vai veloce 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 veloce! Qua ci giochiamo tutto Ferre! E lo so lo so! Ok! Ok! Io scappo! Oh mamma mia c'è troppa gente! Lo so! Lo so! Però dobbiamo essere più veloci! Dobbiamo essere più veloci! Non dobbiamo aver paura di morire! È pieno di pecore, di ragni, di tutto! Di mucche! Zombie! Ma che è? Sono incastrato tra degli zombie e una colonna di cose colorate! Ok! Gli zombie li ho buttati giù! Bravissimo Steph! Ok! Continuo continuo continuo! Io sto andando bene! Io sto andando bene Ferre! Io malissimo Steph! Ce la facciamo! Ce la facciamo! Ce la portiamo a casa noi! La rivinciamo due su due! Maestri dei Lucky Block! Dillo anche tu! Maestri! Non ci credi! Secondo me siamo andati malissimo stavolta! Però ci provo a dirlo! Maestri forse delle Lucky! Ma non devi dire forse! Ma non funziona! E dai Steph! Ma che bello! Una torta! Siamo a un minuto di due! Non ti distrarre! Ok! Manca ancora un sacco! Dai no ma sti zombie! Scappo! Io vado dall'altra parte! Mi mangio una mela dorata! Che poi abbiamo solo pozzi! Ferre sto laggando! Ferre! Ok! La volta scorsa quando abbiamo finito vi ho detto che era stato un panico assurdo! Ti ricordi Steph? Sì! Ecco! Questa volta è stato peggio! Decisamente! Decisamente! Tremendo! Allora io voglio subito dire una cosa! Ok! Guardatevi da lontano le isole! Sì! Secondo me potete magari forse aver scavato più di noi! Ma guarda che bello! Voi avete fatto spawnare! Guarda che bello! È tutto pozzi! Tutti illuminati! È bello eh! Avete fatto un osi nel deserto! Esatto! Esatto! Va bene! Allora visto che siete stati così bravi iniziamo il conteggio da voi questa volta! Ok! Va bene! Ok vai! Ferre speriamo bene! Io ho visto che hanno molti molti buchi loro! Quindi secondo me è andato male sta volta! Secondo me quest'oggi c'era Anna in forma! Allora ricordate! Chi ha meno blocchi rimasti ha vinto eh! Ok! Io segno sempre il numero così! Zero! Beh! Beh! Buono buono! Molto bravi eh! Quanto? 8380! 8380! Ok! Eh! Sono pochi e rispetto all'altra volta sono molti meno! Eh! Assolutamente! Segna Ferre! Segna Ferre! Segna Ferre! Segna Ferre! Segna Ferre! Invece mi sa che questa volta potremmo aver perso! No! Non lo so! Non lo so! Secondo me siete tipo a 7800! Pronti per vedere? Vai! 8090! No! Quindi! Sempre per poco! Sempre per pochissimo! Per 300! No! Per 290 blocchi! Questa volta abbiamo vinto noi! Non è giusto! Spado laser ti spado! Vai via! Almeno pestiamoli! Cioè io non sono in creativo! Ferre! Vai picchiando! Guarda! C'è un ultimo blocco qui! Anche da noi teoricamente! L'ho aperto! Per ragazzi! Scendici un like! Questa è la prima volta che vedete il nostro video! Potete considerarli da di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao! E alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.